che 130 parlamentari della Repubblica si sono tagliati un stipendio per oltre 10 milioni di euro e con i soldi italiani, solo a giugno stiamo facendo partire 8.000 nuove imprese in Italia 8.000 nuove imprese qualche giorno fa ho salutato la prima cittadina italiana che ha potuto aprire un negozio con i soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle quella donna che si chiama Antonella grazie al nostro finanziamento che è il vostro perché noi ci tagliamo gli stipendi non perché crediamo che i soldi degli stipendi siano nostri ma perché crediamo che siano tanti e ve li dobbiamo restituire sotto forma di nuovi posti di lavoro e Antonella, la prima cittadina italiana della storia ha davvero avuto un finanziamento per aprire un negozio a solo le nuove persone e potrebbe far ripartire i posti di lavoro ma se oggi, contro domenico, c'è un candidato